cominciamo dal dax in area 15 5 i compratori diventano timidi e questa è la quarta volta il candlestick ci segnala delle configurazioni poco eleganti fatte su questi livelli di resistenza queste sono le tre precedenti che non sto a ripetere e le ho già descritti nei video precedenti oggi facciamo una coppiola di candele nere non ci sono particolari estensioni verso il basso finché secondo me non viene violato 15 3 la partita è ancora aperta però diciamo che se qualcuno ha intenzione di comprare e di violare questa figura ampia di consolidamento che ormai è in atto da quasi due mesi e diciamo che dovrebbe darsi una mossa perché altrimenti iber riprenderà il controllo quantomeno per fare un altro giro un'altra rotazione come si dice in gergo all'interno di queste figure di consolidamento fuzzi mi va assolutamente stessa situazione area 25 mila e oggi a dire il vero un po più estesa verso il basso comunque stiamo veramente contando i decimali perché non ci sono movimenti importanti per il momento vediamo l'america manca 20 minuti alla chiusura quindi ci siamo quasi anche l'america con volumi bassi staziona questo è l'S&P 500 staziona sulle resistenze a 4 18 questo è l'etf spy e situazione molto simile a quella del del dax quindi stallo sulle resistenze i compratori in questo momento sono in retroguardia non riescono non sono riusciti oggi a portare avanti gli spunti dei giorni precedenti e quindi la situazione si rende vulnerabile a uno swing e in calo la dx non l'ho mostrato prima sul dax ma la situazione ripeto è la stessa quindi la direzionalità in calo favorisce questi movimenti questi alti e bassi senza precisi spunti dow jones stessa cosa il terzo giorno di fila in hovering in area 343 questo è l'etf dia e il nasdaq stessa cosa questo è un tweezer top quasi mancano pochi tic cioè in pratica la seconda candela che fa il doppio massimo in pratica con la candeletta precedente fatto sulla volatilità stop line in calo anche qui è ad x in calo quindi situazione abbastanza statica in america continua lo sport oggi sali tu domani salgo io e oggi tocca al russell più nel 97 non fatevi impressionare dal più due per cento perché è perfettamente all'interno della candela di ieri quindi ieri ha fatto meno due di estensione oggi più due e siamo sempre lì avrebbe volendo spazi un po più in alto perché le sue resistenze più forti sono a 226 comunque anche qui parliamo di poco i mercati azionari quindi in questa situazione la novità oggi viene dall'euro o meglio dal dollaro perché il dollaro che ha mostrato forza relativa un po su tutti i cross e quindi l'euro dollaro si avvicina pericolosamente a questa linea bianca tratteggiata che è 1 21 8 era il vecchio top precedente che già con fatica era stato superato nei giorni precedenti però se venisse bucato al ribasso sarebbe un failure importante potrebbe fare partire anche qui uno swing al ribasso anche perché il candlestick ci sta lampeggiando già da un qualche giorno perché questo è un dark cloud questo è un dark cloud ancora più profondo perché vedete la chiusura rispetto alla candela precedente è quasi arrivata alla open e oggi addirittura un engulfing ci abbiamo fatto il tweezer top il doppio massimo anche qui per pochi tic spiorato comunque tecnicamente possiamo considerarlo un doppio massimo e poi la candela di oggi che ingolfa completamente la candela di ieri ecco questa è la situazione dell'euro ai livelli da guardare loro tocca finalmente tocca e supera millenove e si prende una pausa con una shooting star qui non parte armageddon siamo sempre su millenove però con una dx qui a 46 dopo una galoppata di 200 dollari se correggesse qualche giorno non si meraviglierebbe nessuno quello che in fondo sta facendo anche l'argento da qualche giorno che viene via lateralmente da tenere d'occhio questo 27 44 che è la base dell'ultima espansione verso l'alto prima della 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 pausa che anche qui è partita con una shooting star il 18 di maggio è partita la fase laterale di consolidamento questo è quello che intendo per correzione questa correzione minima ovviamente se dovesse violare 27 4 si potrebbe aprire un altro scenario che poi eventualmente andremo ad analizzare va bene veniamo alle richieste sono richieste che riguardano titoli italiani passiamo sulla scala settimanale questa eurotech ricordo alla mice la guardiamo però ricordo sempre il rischio di ripetermi che i titoli a bassa capitalizzazione soprattutto che scambiano poco da un punto di vista di analisi tecnica ehm l'analisi lascia il tempo che trova perché l'analisi tecnica è efficace tanto più efficace e tanto più attendibile ehm quanto più il titolo è a ehm alta capitalizzazione e soprattutto se i volumi sono molto alti questo giusto per dare un'idea euro tech oggi è scambiato poco più come controvalore di un milione di euro quando un titolo come intesa san paolo scambia oggi è scambiato 230 milioni di euro quindi stiamo parlando noi nei grafici ci sembra tutti uguali ma non sono tutti uguali quindi detto questo io posso dire all'amico che siamo su dei supporti importanti perché perché c'è la volatilità di stop line su scala weekly e ci sono dei minimi precedenti che finora hanno contenuto questo rettangolo di oscillazione è un titolo in genere che per quello che si può vedere da qui è comunque relativamente debole molto molto debole rispetto al mercato se consideriamo che questi sono i minimi di marzo e siamo ancora lì quindi ehm direi attenzione alla tenuta di questi supporti eh perché potrebbero aprirsi sviluppi diversi Saras altra richiesta ehm allora non ci sono novità entusiasmanti nel senso sì c'è stata una candela di espansione con volumi in aumento sull'onda della trimestrale e del dell'aggiornamento di quelle che sono le previsioni per l'anno dopodiché la domanda si sta ritirando certo la settimana non è ancora finita eh quindi siamo eh a metà settimana oltre metà settimana mercoledì concluso mancano due giorni però vediamo che i volumi stanno calando proprio in prossimità dell'importante resistenza di 0,73 dove eh c'è stata l'ultima espansione con un breakout in in realtà è stato un breakout con volumi buoni il 15 febbraio a cui però ehm non non è seguito non è seguito la domanda qui si anche qui si è fermata e siamo scivolati di nuovo verso i supporti a 0,57 quindi direi da seguire questo test a 0,7738 se ci dovesse arrivare. va bene tutto per oggi lasciatemi come sempre nei commenti eh le vostre segnalazioni di situazioni interessanti e lo stesso per gli amici che ci seguono da YouTube ci diamo appuntamento a domani grazie per l'attenzione. a domani grazie 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 a